Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video e oggi... Sono arrabbiato, sono arrabbiato... Stanno trapanando non una casa, non una stanza, un palazzo intero stanno trapanando, io non so se voi sentite... Vabbè, comunque, allora, Sion Day, 18 marzo, non 18 gennaio, come dissi nel video, non ricordo quale, in quello lì in cui parliamo di Vegeta, mamma, non credi, vabbè... Io ho i tempi purtroppo limitati, devo per forza registrare, non posso, non posso non registrare, vorrei aspettare la fine di questa trapanata generale di tutto il palazzo, ok? Ma non posso purtroppo, quindi a sto giro vi tenete un video col trapano nelle orecchie, anche se lo sento più io che voi, fortunatamente grazie a sto microfono Comunque, Sion Day, siamo qui due nuovi Vegeta, allora, Vegeta fisico transforming, evo, come volete chiamarlo, che abbiamo già provato all'interno di un suo video dedicato, l'abbiamo provato a full ability all'interno del car test Qui invece siamo nel Global, nel Jap, vi dico, non pulleremo minimamente su questo personaggio e su questa batch, perché le batch sono praticamente identiche sia a Jap che a Global E, secondo me, cosa che fa abbastanza ridere, soprattutto per quanto riguarda il Jap, le batch sono identiche, identiche a quella di Black uscita nel Jap E quindi a sto punto io credo che cambieranno la batch Global e vi dico la verità, sarei anche contento perché, nonostante quella lì di Black fosse una gran bella batch E questa qui forse è ancora meglio che abbiano inserito Goku IV, ecco, Bar... mamma mia Gogeta, mamma mia Gogeta, che ce l'ho oltre il full ability, lasciamo perdere Forse è meglio comunque che abbiano inserito Bardak e Goku IV all'interno di questa batch piuttosto che da Black Anche se poi, se dovessero di nuovo ripropinarci questi personaggi da Black int nel Global sarebbe una... va bene Però, sinceramente, diciamo che va più o meno bene così, mi sarebbe aspettato qualche personaggio un po' più interessante, almeno per il mio Global Però è una buona batch questa qui, attenzione, perché Bardak soprattutto è una grossa occasione per chi non l'ha mai trovato E quindi, bah, insomma, provateci anche perché il Global ci ha messo 30 stone alla prima multi Sconticini che non fanno mai male, quindi abbiamo Vegeta, Vegeta Int, Bardak, Goku Ok, signori, io direi di partire immediatamente Porta fortuna toccato E quindi, prima multisammon per noi da 30 Dragon Stones Probabilmente ne faremo solo 3 di multisammon, ok? Fermi! Dai, già c'è un personaggio featurid almeno Dai, 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 partiamo subito bene Partiamo subito bene, questo è l'importante Dai, speriamo ovviamente, mamma mia, veramente l'unico che non deve mai uscire da sta batch è Gogeta Cioè, veramente l'unico, altrimenti lì rosico, rosico tantissimo Ma comunque, diciamo che non è un problema, stiamo sculando abbastanza ultimamente un po' dovunque Quindi, diciamo che ci sta Bu, allora, come vi dicevo, quindi, questa è la prima di probabilmente 3 multi massimo all'interno di questa batch Perché, vi ripeto Basta, trapano, per favore Basta Basta Speriamo che porti bene, almeno, dai Almeno potrebbe coprire la mia urla Magari Goku quarto, va bene Va bene, non lo avevo Oddio, è nel jump? Oddio, sapete che non ricordo No, mi sembra che... No, è nel jump che avevo Goku Ma questo non lo avevo mai trovato all'interno del global Partiamo subito bene, caspita Partiamo subito bene Abbiamo evitato almeno l'incubo Gogeta IV Quindi va bene, va bene Goku Super Saiyan IV, full power Ottimo, perché non lo possiedevamo all'interno del global A me questo interessa Portarmi a casa personaggi che non ho mai trovato, ok? All'interno di entrambe le versioni In modo da avere sia in una versione che in un'altra Magari Anche se Goku IV ce l'ho nel jump Comunque, comunque interessa rinfoltire il mio box, ok? In entrambe le versioni Non mi interessano tanto le ability, vi dirò la verità Mi interessa più proprio questo Vegeta, signori, dovremmo essere al decimo personaggio con Majin Vegeta Allora, siamo partiti, diciamo, subito bene, più o meno, ok? Perché abbiamo trovato Goku IV Che ci mancava Quindi lo andiamo, ovviamente, a loccare Ottimo così, ottimo così Signori, andiamoci a fare Grazie, trapano ancora nelle orecchie Sei sempre ben accetto, vedete, sempre un grande Seconda multi per noi Eh, animazioni non incredibili qui a sto giro, eh Yellow, per favore dammi un bel god Primo livello Solo primo livello Vediamo Ok, questi Vegeta SR rate up sono molto buoni Per quale motivo? Perché va bene che c'è l'evento di Broly che ci ha portato le copie SSR farmabili di Vegeta base, ok? Il problema è che comunque quello è un evento ad oggi molto molto limitato Oddio, molto molto limitato È uscito solo una volta È poco tempo fa Però per l'appunto sì, è uscito solo una volta Io tra l'altro mi sono farmato tantissime copie di quel Vegeta SSR Le ho date addirittura per evitarmi il farming del Del Vegeta LR, diciamo Le ho date proprio a quello lì E da saperlo Potevo risparmiarmeli, sinceramente Anche se si può farmare tranquillamente l'SA del Vegeta fisico Magari proprio all'interno della Prime Battle Quindi non è un problema Poi queste copie SR non sono male Ovviamente sprecate medaglie Se gli fate l'awaken per portarle magari ad SSR Per darle al Vegeta fisico Se mai riusciste a trovarlo È però Ma cosa? Ma non mi puoi dare! Ma non mi puoi dare Vegeta così! Gioco maledetto! Oh mio Dio Mi sta battendo il... Ma adesso mi è partito Mi è partita la Dekicardia Ma adesso Cioè che sto... Ma un SR cos'è questa roba? Che ci... Ok Me l'ha dato Come nulla fosse Come il personaggio Di come il primo SR O il primo SSR Che passa così per strada Che poi non camminano Oh intanto si è fermato pure il tra... Maledetto! Maledetto! Eri tu col... Sì! Vegeta caspita! E vi dico la verità Non ci andiamo a fare manco l'altra multi eh Non ce la facciamo raga Va bene così 80 stones Troviamo Goku che non avevo Troviamo praticamente i personaggi che a me servivano In assoluto Perché Bardock già ce l'ho Vero che ce l'ho Ability free Ma già ce l'ho Signori! Beh Come... Non ce la faccio Non ce la faccio No 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 Io non ce la faccio mai oggi Signori! Che dire? Che dire? Nemmeno... Sì! Vegeta fisico! Seconda multi Tra l'altro grazie global che ci hai regalato la prima multi a 30 stones Ti amo Ti amo Seconda multi Vegeta fisico Decimo personaggio Senza alcuna animazione Né Veget Né... Goten de Trunks Né Krillin soltanto Nulla! Né Fake Out Né lo Scouter Va bene! Va bene! Il problemone grosso Ed è quello che stavo vedendo in questo momento E che mancando l'evento di Dragon Ball Super Broly Eh... Devo farmare l'SA a sto PG Ma non posso utilizzare Nelmeno alcun category bonus Quindi devo davvero... Dai! Cioè devo andare per forza di Prime Battle di Vegeta a questo punto Mi sa che... Che quindi sì Mi andrò a fare un breve refill a questo punto E... E proverò a farmare l'SA Caspita Devo fare solo in questo modo a sto punto Eh sì! Perché gli unici farmabili ad SSR Risultano soltanto Il Vegeta Che mamma mia Si è ringraziato davvero Chiunque abbia pensato di metterlo all'interno del... Farmabile ad SSR Col category bonus all'interno dell'evento di Dragon Ball Super Broly Ed il Vegeta della Prime Battle Quindi speravo sinceramente di evitarmi quel farming Ma invece dovrò farlo per forza Tra l'altro Dovrò farmi anche un piccolo refill a questo punto Altrimenti ci metterò una vita per portare sto personaggio ad SSR Ed anche a... A Tour Quindi io... Io provo un attimino Vediamo se riusciamo a portarci a casa così Una copiettina Come nulla fosse Fortunatamente ho comunque Solo una copia purtroppo Farmata del... Del Vegeta Quello lì di Dragon Ball Super Broly Oh! Il... Devo dire la verità Il drop rate non dovrebbe essere... Pesantissimo E vediamo un attimino Sì! Per fortuna abbiamo Per ogni... Diciamo run di questo stage Un 50% di poter droppare Una copia di questo Vegeta Quindi davvero davvero buono Proviamola anche Proviamo anche Giusto a dargliela in SA Gli diamo questa qui Gli diamo magari anche l'SR Volendo Allora lo sto facendo bene Ehm... Yes! Vediamo un secondino Quante ne riescono ad entrare qui perché Zero! No! Ne è entrato solo lui praticamente Con tutta probabilità Ehm... Yes! Facciamo anche la Wagon Fra poco Diamogli anche quest'SR E poi ho... Eccola qui Anche una mezza copia così Che mi è avanzata Allora vediamo se riusciamo a portarlo Almeno ad SA3 Almeno E dico almeno Ad SA3 Vediamo Oh! È entrato un'SR Attenzione Quindi già ci stiamo portando avanti Con l'S4 Signori che dire Dopo questo Goku IV Che tra l'altro Anche devo portare su Ora che ci penso Super Full Power Saiyan 4 Goku Quindi non si potrebbero Manco utilizzare Magari le copie Ehm... Ecco quelle lì Che verranno date All'anniversario Manco quelle si possono utilizzare Vediamo un pochino Quanto riusciamo a portare su Il Super Full Power Goku Ehm... Come non detto Come non detto Zero spaccato Zero spaccatissimo Riproviamo solo un altro tentativo Giusto per vedere No in realtà Come non detto Non possiedo più I... I Kai Diciamo Quelli lì da 30% Quindi dovrò portare Per forza Il personaggio così su Non possiedo nemmeno le medaglie Quindi che bello Si torna a fare i farming pesi All'interno del Global Qui si torna davvero A fare i farming pesi Tra l'altro Ho quasi portato a tour Ecco perché LR in realtà Lo starete vedendo qui Ehm... Vedete LR Ci siamo quasi Dopo il farming del torneo Che mi ha Un bel po' Sinceramente rallentato Non che io l'abbia farmato Tantissimissimo Però Signori che dire Con questo Vegeta fisico Personaggio principale Del banner Io direi che possiamo Salutarci qui Speravo sinceramente Che inserissero All'interno della sua batch Personaggi come Tarles Personaggi come Goku Evo magari Perché no Freezer Evo Magari facevano una batch Tutte Evo No Freezer in realtà Perché Freezer Che sono Saiyan Però Non hanno fatto così Ma allo stesso tempo Signori Ci siamo portati a casa lui E va bene così Quindi signori Tanti mi piace Per altri video di questo genere Su Toccan Battle Soprattutto se volete Lo showcase però Del Vegeta Ability Free Attenzione perché L'abbiamo provato Ad Ability Full Ma lo proveremo Ad Ability Free Magari in qualche altro team Quindi mi piace Commenti Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video E noi ci diamo appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video Ad un prossimo